Tutti quelli che sono una Paralimpiade, se sai che sono là è perché per arrivarci sono quasi morti. Quindi sai che o hanno rischiato di morire o per malattie, incidenti, alla nascita e un sacco di persone che nascono comunque hanno tanti problemi o magari i genitori in esso non l'hanno accettati, perché alla fine anche proprio quello che si crea intorno, la cultura della disabilità che c'è anche all'interno di un paese. Noi siamo fortunatissimi a stare in Italia, perché comunque la disabilità in Italia vi stiamo a dire completamente diversa che nel resto del mondo. Io mi sono resa conto che 13 anni fa quando ho avuto la malattia, quando andavo in giro per strada, se andavo io all'inizio ero in carrozzina senza le braccia, con le ferite del viso aperte, quindi anche già più strano, parecchio più strano, i bambini mi guardano e mi dicono mamma, magari ero per strada, dall'altro lato della strada, mamma ma che cosa ha quella? E la mamma la maggior parte delle volte diceva, non diceva, oh guarda c'è una disabilità, oh si vede un incidente, qualcosa ed è rimasta in carrozzina, ma comunque con la carrozzina può fare tutto, con le progetti, no la maggior parte delle volte era gira di non guardare. 13 anni fa io me la vivevo così, adesso è il contrario, anzi devo nascondermi per strada. Quindi vedi come i bambini non vedono l'ora di farti domande, durante l'allenamento io sono andata al bar e una mamma fa un bambino piccolo, fa guarda lei è quella disabile che gioca a scherma, guarda che brava così, mamma si chiama scherma paralimpica, lei è un atleta, ma avrà avuto ti giuro sei anni e io avevo detto ecco questo è quello che stavo cercando di fare. Per me quell'immagine lì è proprio la riuscita di tutti questi anni di lavoro che stiamo impegnando a fare per insegnare lo sport paralimpico.